Mare in bonaccia, bel sole, equipaggi agguerriti ed emozioni forti nel 35esimo campionato italiano assoluto per equipaggi di drifting, indetto dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e organizzato dall'associazione SD Angler's Team con la collaborazione della sezione ortonese della Lega Navale e il patrocinio del Comune di Ortona. La competizione ha visto impegnati nelle acque antistanti Lido Saraceni e per tutta la costa dei Trabocchi 45 equipaggi provenienti da tutta Italia nella passione della pesca del tonno rosso. Una volta catturati gli esemplari sono stati misurati e dunque rilasciati in mare. La manifestazione è stata coordinata da Francesco Di Tonto, presidente dell'Angler's Team con lo supporto tecnico a terra della Lega Navale italiana. La manifestazione ha riscosso un successo veramente grande con 45 imbarcazioni partecipanti e si sono pescati tanti tanti tonni, il tempo ci ha accompagnato e è stato un successo a livello ortona, è stata una città che ha accolto questo evento veramente alla grande, la Lega Navale che ci ha ospitato nella loro sede con un'accoglienza unica, unica e per questo ringrazio il presidente Eugenio Rapino. Il movimento sempre in grande crescita, siamo sempre di più a partecipare a queste gare, il circuito Fipsas tira sempre di più e abbiamo grandi margini di miglioramento. Diverse le istituzioni e le aziende coinvolte a supporto della manifestazione a partire dalla regione Abruzzo con l'assessorato turismo e attività produttive, il CONI, la Fipsas con i comitati regionali e provinciali e marchi leader nel settore della nautica. Le 45 imbarcazioni che hanno partecipato al campionato erano formate da 5 atleti ciascuna, circa 180 i tonni rossi pescati e poi rilasciati dopo averne misurato la lunghezza. Vittoria per il team Fabola della Ravenna Fishing Club, secondo Gargano Tuna Fishing, terzo club nautico Pesaro, Giuseppe D'Andrea, un altro organizzatore. Una specie in via d'estinzione che negli ultimi anni, per fortuna, grazie anche alle regole restrittive della pesca, si sta ripopolando nelle nostre zone e proprio negli ultimi anni sta anche crescendo di taglia. Infatti nella nostra gara sono stati pescati tonni che superavano anche il quintale, quindi il dato è confortante. La pesca consiste, è proprio una lotta tra l'angler e il tonno, una lotta alla pari perché viene fatta con un'attrezzatura dedicata molto leggera, al contrario dei vecchi combattimenti con fili grossi e quindi il tonno aveva poco scampo. Quindi la bravura dell'angler a riuscire a portare alla fine il combattimento e quindi portare a misurazione e naturalmente al rilascio. La gara è basata solo sul rilascio dei tonni, quindi per rispetto totale per l'animale.